Numerose segnalazioni sono giunte ieri attorno alle 18 ai carabinieri della compagnia di Bassano da parte di automobilisti terrorizzati. Un unico denominatore comune, la statale 47 Valsugana all'altezza del comune di Val Brenta, un furgone Mercedes Sprinter che a velocità sostenuta zigzagava continuamente lungo la careggiata invadendo a tratti la corsia opposta con grave pericolo per l'incolumità degli automobilisti che avanzavano e la possibilità di provocare gravi incidenti stradali. Tempestivo l'intervento dei carabinieri della stazione di Rosà e della sezione radiomobile che ha consentito di bloccare il mezzo all'altezza di Pian dei Zocchi San Nazario in direzione sud. L'uomo alla guida del veicolo in un primo momento è rimasto immobile al volante, in evidente stato di alterazione incurante dell'intimidazione dei militari di spegnere il motore e scendere dal veicolo. Neutralizzati i successivi tentativi di fuga, l'uomo è pakistano, 32enne, domiciliato a Vedelago, condotto al pronto soccorso dell'ospedale San Bassiano sottoposto a sedazione. In corpo un tasso alcolemico rilevante pari a 3,24 grammi litro, più di sei volte il consentito. Il giovane è stato così deferito in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebrezza alcolica e guida senza patente.